Anticipazione il segreto. Martedì 29 settembre 2020. Marta sorprende Pablo per strada e cerca di tirarli sul morale. Qualcuno comincia a pedinarli. Ignacio commenta con un ruti al fallimento nel primo tentativo di raccontare a Pablo le sue origini. Il suo braccio destro lo rincuora e gli dice di non mollare. Marta, Rosa e Carolina sognano la loro madre e decidono di scriverle una lettera. Urrutia controlla con Damian lo stato dei macchinari per assicurarsi che tutto sia in ordine ma Damian protesta e sostiene che i lavoratori fanno turni estenuanti e che questo è pericoloso. Nella lettera la madre Rosa le dice che tra tre mesi si sposerà. Poi le parla della sua futura suocera e di quanto si comporti bene con lei. Carolina e Pablo si incontrano in piazza e condividono la loro angoscia. Entrambi sanno che devono trattarsi come fratelli e confidano nel valore del tempo. Mattias accusa Lisia di essere spericolata, teme che voglia compiere di nuovo un'azione rivoluzionaria ma lei gli promette che non lo farà. Inoltre lavorando in miniera nessuno sospetterà più di loro. Ma che da prendo un drink e confida a Mattias di voler confessare alla donna che ama ciò che sente per lei. Il locandiere gli consiglia di non mollare e di agire. Maurizio dice a Marcella che la vede strana e si offre di aiutarla. La Marchesa fa pressioni sul figlio Adolfo se non ama Rosa perché sposarla? Lui risponde che è il prezzo che deve pagare per averla disonorata. I de los visos poi fanno i complimenti ad Alicia per la sua determinazione. Franziska fa delle domande a Isabel che però non le confessa i motivi del suo viaggio. La nobile donna vuole organizzare una grande festa per la Montenegro ma quest'ultima afferma che ciò che desidera è solo una passeggiata per le vie di Puente Viejo. E questo è il modo giusto per far capire ai suoi concittadini di essere ritornata.